La giustizia non sia sempre giusta, anzi per quelli come Torò non lo è mai, è che la prima vera appunto cosa da cui bisogna liberarsi è l'andare spontaneamente e con felicità verso la prigionia perché è lì il punto, no? Torò lo dice esplicitamente quando dice che la larga parte degli esseri umani vivono una vita di tranquilla disperazione, dice lui, quindi cercare di andare a evitare di essere appunto volontariamente schiavi di qualcosa che ci sta togliendo, quelli che non sono dei diritti che ci vengono dati, ma sono dei diritti che noi abbiamo già. Ok, benvenuti e bentornati a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Ibex Edizioni, io sono Gio Fomagalli, fondatore della Casa Editrice e oggi ho il piacere di avere qua con noi Leonardo Caffo, filosofo e probabilmente uno dei massimi esperti in Italia di Turo, che è un po' l'argomento del giorno. Ciao Leo! Ciao Gio, ciao a tutti coloro che ci ascoltano! Allora, l'abbiamo già un po' anticipato dentro questa brevissima intro, sto tentando di tenerle tutte quante sempre un po' brevi queste intro perché non ho nessuna voglia di annoiare gli ascoltatori, oggi si parla di Turo e nello specifico si parla di Valden, che è una delle ultime pubblicazioni che Ibex Edizioni ha dato alle stampe, probabilmente lo starete vedendo in grafica, Ed è una nostra riedizione del... potremmo definirlo il testo più iconico di Turo o Leo? Sì, diciamo che sicuramente è quello che tutti conoscono, forse non tutti quelli che lo conoscono lo leggono perché è anche un po' noioso ogni tanto, però è forse il libro più famoso della letteratura e controcultura americana dell'Ottocento, una specie di Bibbia. E ne stiamo parlando con Leonardo Caffo perché Leonardo Caffo ha scritto la prefazione a questa edizione di Ibex. Senti Leonardo, io partirei proprio dall'inizio, più che spiegare chi era Turo, ti chiederei perché nel 2024 ha senso leggere Turo? Ma allora, Turo è un personaggio effettivamente assurdamente attuale perché stiamo parlando di un tizio che è nato nel 1817 ed è campato oggettivamente poco perché è morto giovane, male e in miseria. Però ci ha lasciato qualcosa che è attuale sempre, in ogni momento della storia, cioè ci ha lasciato essenzialmente tre cose. Il valore pratico della filosofia, cioè che cosa significa aver imparato una disciplina che insegna a stare al mondo anche nelle difficoltà e nelle complessità delle esistenze personali. Turo è stata una figura che ha avuto una vita abbastanza non ordinaria, andava malino all'università, è andato in rovina con l'impresa di famiglia da fabbricante di matite, ha avuto problemi a scuola come insegnante e si è licenziato in difesa di una posizione pacifista contro le pene corporali del governo americano nei confronti degli studenti in quegli anni. Ha avuto il fratello John morto, comunque aveva fondato una scuola, ha dovuto ricominciare, era innamorato di una che però se la faceva con un'altra, un disgraziato. Però in quei due anni, due mesi, due settimane, due giorni in cui è ambientato Walden, che se non vado errato è una cosa che lui più o meno ha scritto diciamo così nel 47, quindi facendoci due calcoli era un 28enne, ha lasciato un senso dell'esistenza, di che cosa significa provare a ragionare con quello che loro chiamavano loro, lui e il suo maestro Emerson, il trascendentale kantiano, da cui deriva il trascendentalismo. Qual è la morale e lo spirito delle cose che non viene dalle leggi esterne, dalle costruzioni, dalle burocrazie, che non viene dalle norme, ma che viene da uno spirito interno che ci permette, a confronto con la natura, cioè la più grande, la più potente delle cose di cui noi stessi facciamo parte, il vero senso dell'esistenza. E Toro in vita non è stato fortunello, e leggerlo retroattivamente ci fa capire che cosa significhi in qualche modo imparare a vivere anche quando tutto il mondo intorno a noi crolla, e quindi ahimè è iperattuale. Parlavi di tre punti nello specifico, mi pare che questo sia solo il primo, il valore pratico della filosofia, gli altri due quali sono? Il secondo punto, ed è la ragione per cui viene ricordato Walden come classico dell'ecologia americana, è che di fatto è il primo grande romanzo filosofico. Toro sta in quella intercapedine di tanti filosofi che ha scritto delle cose che un po' sono diari, un po' sono romanzi, un po' sono storielle, un po' sono saggi, ma di fatto è il primo grande romanzo della cultura ecologista americana, a tal punto che poi da alcuni verrà accostato addirittura all'econarchismo, all'ecoterrorismo, a Theodor Kaczynski, cioè c'è tutto un filone, ma poi viene ripreso da chiunque, da Gandhi, dalla Beat Generation, da Patti Smith, però è un personaggio che diciamo così ci ha fatto capire come l'ecologia non è un non buttare la carta per terra o mettiti la borraccia d'alluminio e via dicendo, ma è una capacità di rientrare nelle cose del mondo invertendo l'idea che siamo isolati mentre noi siamo nella maglia della natura e le leggi della natura non sono le leggi dell'uomo. E il terzo grande punto è che Toro è stato un capostipite vero di un'anarchia diciamo così oltreoceanica, cioè dell'anarchia atlantista, dell'anarchia nordamericana e dell'idea di provare a fare in modo che l'unica vera democrazia presa sul serio sia l'anarchia. Tanto è vero che contesta, combatte e attacca esplicitamente gli Stati Uniti d'America quando ancora non erano così uniti attraverso la loro stessa Costituzione, cioè dice se io devo prendere sul serio i principi della Costituzione americana non posso rispettare lo Stato americano. E da lì con disobbedienza civile e con altri grandi saggi, ma sono i tre punti per cui Toro è diventato essenzialmente una star, un punto di riferimento, un uomo che tutti quanti in qualche modo hanno dovuto avere come confronto quando hanno studiato filosofia, ecologia, politica, letteratura americana, diaristica, scrittura narrativa, è stato un grandissimo intellettuale. In che senso? Hai detto un po' di cose, ho segnato un paio di appuntini interessanti tra quello che hai detto. Partiamo dal discorso ecologia. Qual è il valore del Walden e perché è il punto di partenza? Questa scatena il Walden. È il punto di partenza perché Toro è un ragazzino quando lo scrive, ma in realtà ha l'età tipica della filosofia. Cioè la filosofia, io credo di averlo scritto in un'introduzione che feci di disobbedienza civile, sempre di Toro, che la filosofia è dei ventottenni. Cioè, poi è importante però che io già sono fuori, perché è quell'età in cui si pensa che la propria voglia di cambiare il mondo e il mondo possano coincidere. Ci si confondono ed è viva i propri destini personali con i destini dell'universo. Per cui Toro era un rivoluzionario, voleva cambiare il senso delle cose, non lo poteva fare geopoliticamente e ha utilizzato il metodo intrinseco della filosofia, da Socrate in avanti. Io con la mia vita individuale vi mostro che è possibile vivere in un altro modo. E Toro, in un momento in cui stavano nascendo le grandi rivoluzioni industriali, si stava industrializzando il Massachusetts in New England dove lui viveva, in Europa c'era una grande esplosività, diciamo così, della tecnologia modernista del primo e secondo ottocento. Lui ci dice, un attimo, non è che per caso ci siamo bevuti il cervello e tutto ciò che ci serve per vivere, cioè la pace, il senso della vita, il contatto con la natura, la possibilità di realizzare quella vita, diciamo, epicurea, lucreziana, del senso dello stare nelle cose è già attorno a noi e ce la stiamo bruciando, in vantaggio di qualcosa che poi ci farà comprendere che dovremo ritornare da capo. Pensate che profeta, per riavere quelle quattro cose che invece sono già attorno a noi, tutti conoscono una frase di Walden, e questo noi lo dobbiamo anche all'attimo fuggente, a tutta una serie di film, libri, romanzi che sono stati scritti su Walden, andai nei boschi per non scoprire un punto di morte che non ero mai vissuto. Cioè questo confronto con la vita altra, questo significa quella frase, come sta al mondo un albero, come sta al mondo un cerviatto, come sta al mondo una nuvola, come sta al mondo una pietra, e rendersi conto che il nostro modo di vivere, che apparentemente noi ritemiamo, e questo si chiama antropocentrismo, e anche a Toro dobbiamo tanto. Questo è il nostro modo di vivere, che noi pensiamo di essere il migliore, il più figo, il più cool, il più ganso, il più intelligente, eccetera, in realtà è un modo di vivere totalmente demenziale, perché siamo attorniati da burocrazie, Toro era contro le burocrazie, Toro si è fatto la galera, non se la riusciva neanche a fare come voleva, perché la zia gli pagava la cauzione e lo portava fuori, è un modo totalmente folle, mentre in realtà nella sua capanna, non così isolata come sembra, perché il Bosco Lacustre di Walden in realtà è a un tiro di schioppo da Concord, che a sua volta non è così lontana da Boston, e Toro era una persona estremamente sociale, non era uno sacchiotto, era un uomo, sono storiche le sedie di Walden, tre sedie, una per l'amicizia, una per la compagnia, una per la società, cioè lui voleva in qualche modo contatto, ma partendo da quello che poi viene chiamato individualismo metodologico, cioè se tu non hai capito qual è il senso della tua esistenza, non puoi andare dalla tua parte. L'ecologia è soprattutto questo, ecco, non è non fare questo, non fare quello, non mangiare quello, non cacare per strada, l'ecologia è come mi integro nella maglia dell'esistente, Walden è questa cosa qui, Walden è lui, i suoi paesaggi, messo fuori dalla capanna, il suo raccontare, come vedranno i lettori del libro, il suo raccontare in modo straordinario, il senso di un tramonto, il senso della vita attraverso quello che avviene nel lago, quello che avviene ai pesci, quello che avviene alle stagioni che cambiano, all'adattarsi al mutare dell'orto, all'adattarsi al mutare del freddo, e c'è qualcosa di fondamentale anche nel modo in cui costruisce la capanna, quella che è la capanna iconica, all'inizio del libro, diciamolo perché tanto siamo tra amici, l'inizio del libro è una rottura di coglioni sorprendente, perché lui ci comincia a dire quanto minchia costano i chiodi, quanto costa quello, quanto costa quell'altro, quanto costano i legnetti, che uno dice troppo, però tu vale, noi pensavamo di scoprire il senso della vita, ma in realtà il senso della vita è quella roba lì, lui ci sta dicendo, impara a fare le cose con le tue mani, con le tue zampe, cioè costruisci la tua casa, cerca di capire davvero di quante cose hai bisogno, cerca di comprendere come integrare questo tuo processo di costruzione nel più vasto processo di costruzione dell'esistente, l'età degli animali, eccetera. Spesso Toro viene definito un utopista, ma in realtà il tuo ha fatto quello che tutti avremmo dovuto fare, i veri utopisti che poi generano la distopia, siamo noi che costruiamo cacate in giro per il mondo, che pensiamo di vivere per sempre, e via dicendo, è vero che Toro è anche morto in pace, ha detto alla zia prima che morisse, che era pieno di sé, che aveva fatto una bella vita, nonostante, se poi andiamo a leggere la biografia di quest'uomo, ha fatto letteralmente, senza mezzi termini, una vita di merda, senza successi, nel dolore, senza soldi, dovendo fare dei mestieracci, eppure poi, nel suo, quelli che vengono chiamati appunto, natural writing, di cui Walden fa parte, come i diari, eccetera, descrive un fiore, la stessa essenza con cui si potrebbe descrivere la divina commedia di Dante, o chissà quali altre cose, perché appunto, come dirà, e questa è una cosa che poi resterà nella letteratura americana, un libro parzialmente, diciamo, ispirato a Walden, che è lo zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, di Robert Peirzig, e riporta questa famosa frase, che dice, il Buddha, il divino, alberga nei petali del fiore, come negli ingranaggi di una moto, che va benissimo per descrivere Walden, cioè, l'ecologia è nei chiodini, è il senso del mondo, è nei chiodini, è nelle pale di legno, per costruire nella capanna, come nel fiore, come nelle sue riflessioni sul trascendentale cantiano, questa è l'ecologia, tutto è importante, niente è irrilevante. Wow, figo, non mi aveva ancora spiegato nessuno così, grazie, è stata una bella, un bel excursus. cosa succede dopo il Walden, dal punto di vista del pensiero che inaugura, che inaugura Toro, e intendo il dopo sia prossimo a lui, che il dopo un po' più, cioè, come evolve da lì la situazione? Ma allora, Toro ci passa po', cioè, due anni, poi lui, secondo me, per ragioni narrative, ci ficca le due settimane, i due mesi, questa specie di, multiplo di due, e di fatto poi dopo lui ha una lunga vita, non lunghissima, perché Crepa mi pare, vicino ai 50, in 47, avrà avuto una cosa del genere, però poi dopo c'è la disobbedienza civile, nel 49, ci sono tante altre cose che gli succedono, ma Toro ha un grande antagonista, Toro è più o meno contemporaneo di Hegel in Europa, e Hegel aveva prodotto una letteratura, nei confronti della natura, totalmente opposta a quella di Toro, la filosofia della natura di Hegel, è che, la traduco facile, è così, è che la natura è una merda, cioè, è una cosa senza senso, siamo soltanto noi a dare senso alla natura, ciò che ha davvero senso sono le cose che lui chiama le discipline dello spirito, da cui deriva l'enciclopedia dello spirito, Hegel fa tutto questo racconto di questa passeggiata in montagna, in cui lui dice, sì, ma qua è tutto senza senso, è tutto senza ordine, non c'è un'estetica della natura, mentre invece Toro produce la versione uguale e contraria, che però non era famosa come quella di Hegel, Hegel era una star in Europa, già nei suoi contemporanei, era uno che riempiva le aule dell'università tedesche, dirigeva un famoso quotidiano, mentre appunto Toro, che pure scriveva sui giornali dell'epoca, per esempio sull'New Atlantic, però comunque era un irrilevante, ci diventerà famoso molto dopo, figuriamoci che quando Crepa, il suo maestro, che invece era uno stronzone molto più mediocre di lui, e come tutti gli stronzi mediocre ha avuto una lunga vita, che si chiamava Emerson, quando Toro Crepa, gli fa un piccolo trafiletto sui giornali, e dice che è morto Toro, che era una brava persona, ma di fatto era uno scansa fatiche, che non aveva voglia di fare un cazzo, perché ovviamente nella filosofia di Toro c'era anche l'idea dell'ozio rivoluzionario, cioè dell'ozio creativo, del non fare, del sottrarsi, come molti americani dell'epoca, attraverso la costruzione di queste capanne nei bordi e nei confini delle città, e via dicendo. Quello che succede a un certo punto è che per molto tempo trionfa la filosofia hegeliana, cioè la natura è una merda, le cose dello spirito, l'ottocento, l'industria, chi si sarebbe potuto oggettivamente cagare di Toro in quel momento? Stavamo costruendo il mondo, i treni, le ferrovie, le città, i primi grattacieli, Chicago, che prima dell'incendio era già tutta quanta grattacieli, dall'altro c'è uno che ti dice la capanna, i boschi, i fiorellini, viviamo in natura, lì ci stavamo modernizzando, la medicina moderna, la chimica, iniziava la grande fisica, di lì a poco ci sarà tutto, il principio di indeterminazione, ci sarà Charles Darwin, poi ci sarà lo spinetano, europeo, eccetera. Toro viene recuperato veramente molto dopo, cioè quando ci si rende conto che in realtà quest'uomo, come tutti i grandi visionari, aveva detto attenzione, perché dopo questo periodo di grande frizzantezza ci sarà l'inferno, perché come l'incendio Walden anche calpestare il suolo vicino al tuo piede sarà invadere la terra di un vicino, fare un reato, le acque saranno sporche, noi oggi lo vediamo perché paradossalmente se qualcuno va a Walden con spirito turistico a vedere il sito della capanna, la pietra dove c'è scritto qui Toro si è costruito questo, lo stesso lago di Walden paradossalmente proprio per colpa del turismo che è seguito alla lettura di Walden il libro, è una merda, è inquinato, fa schifo, non c'è più niente praticamente di quel paesaggio pazzesco, straordinario di cui ci raccontava Toro e quindi Toro poi viene recuperato con le nascite delle ecologie moderne perché l'ecologia all'epoca di Toro non esisteva, lui mica parla di questa parola non essendoci il problema non c'era la parola perché il mondo non aveva nessun bisogno dell'ecologia nella metà dell'Ottocento si stavano a crema, i climi erano quelli che erano le cose andavano come andavano quindi poi c'è stato il recupero ovviamente all'inizio del Novecento c'è stato il recupero dei grandi romanzi della grande letteratura e pian piano la filosofia di Hegel e la filosofia di Toro sono diventate due modi diversi di guardare le cose qui c'è tantissima letteratura che riconosce c'è tutta l'anarchia americana c'è poi l'anarchia europea che ha ripreso Toro ma su Walden questa è la cosa che secondo me è importante per i tuoi lettori è stato fatto qualsiasi cosa sono stati fatti videogiochi Walden Pound è un famoso videogioco che si in cui c'è Toro che si muove nel lago pensate che follia sono stati fatti film sono stati fatti libri su libri su libri sono stati fatti romanzi sono state fatte canzoni sono state prodotte citazioni che poi sono finiti nei film classici della cultura americana e di fatto Walden insieme a il nido del cuculo per intenderci è uno dei grandi classici della letteratura americana io per esempio ogni tanto faccio dei corsi in congestione con la Northeastern University di Boston e tutti i miei studenti della Northeastern mi dicono Walden ce lo fanno leggere a scuola perché nel Massachusetts Toro è come può essere per noi Manzoni cioè non è un tizio che passa per sbaglio e tuttora c'è una grandissima cultura diciamo così e poi ha ispirato capanne a lui successive questa cultura di quella che io ho chiamato il cabin out cioè il sottrarsi attraverso la cabina la capanna ha ispirato i pensatori più disparati Toro è arrivato in qualche modo a Friedrich Nietzsche attraverso Emerson Toro è arrivato sicuramente a sempre tramite Emerson a Ludwig Wittestein quindi lo troviamo nella capanna di Wittestein lo troviamo nella capanna di Le Corbusier lo troviamo nella capanna di Teodor Casischi lo troviamo nella Ute nella foresta nera di Martin Heidegger lo troviamo addirittura nel Buen Ritiro nella villa californiana di Teodor Adorno cioè c'è un c'è stato un capannage dopo 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 Toro forse il senso che va detto è che Toro ha fatto uno strano Buen Ritiro nel senso che di solito il Buen Ritiro noi lo facciamo quando siamo vecchi rincoglioniti o come nel mio caso falliti mentre invece Toro lo fa prima cioè lui a un certo punto è forse lì che c'è questo messaggio lui dice ma vale davvero la pena mettersi a fare tutto questo bordello la traduciamo nel linguaggio moderno di 730 di casa in affitto di mutui eccetera che poi a un certo punto dobbiamo schiattare e saltare in aria per sperare di fare durante la pensione quello che io posso fare a 28 anni con qualche decina di dollaro lui ci dice addirittura le cifre esatte che ha speso per fare la che sarebbe come dire un qualche centinaio di euro oggi e il punto è che Toro stava cercando anche di darci una teoria dei buchi della sottrazione del 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 sapersi sganciare dal dominio delle cose aveva visto che saremmo finiti come siamo finiti oggi e noi andava per nulla per nulla bene Leonardo ti faccio un'altra un'altra domanda perché hai toccato un termine che su questo canale stiamo iniziando a riscontrare spesso che è il termine frontiera lo stiamo riscontrando spesso perché oltre a riprendere alcuni classici del del passato diciamo che siamo abbastanza vicini a un certo tipo di tematiche più moderne stiamo facendo tutta un'intera serie sull'intelligenza artificiale con gente che si occupa proprio di persone Luca Petrilli per intenderci che si occupa di addestrare le intelligenze artificiali al calcolo al calcolo statistico ora la frontiera è uno di quei posti in cui c'è solitamente tanto rischio e però anche tante possibilità perché non è così così strutturata come come quello che non è frontiera che potrebbe essere il centro città o potrebbe essere anche semplicemente la civiltà magari in un'ottica in cui esiste una dicotomia fra il west la conquista perché poi stiamo parlando di quel secolo stiamo parlando del secolo in cui gli Stati Uniti smettono di essere semplicemente la costa la costa est e si espandono e si prendono e si prendono tutto il continente americano sostanzialmente è il momento in cui viene inventata la locomotiva a vapore è il momento in cui subentrano i telegrafi che accorciano le distanze delle comunicazioni per cui c'è proprio questa idea di da un lato tentare di spingere la civilizzazione come la chiamavano loro verso ovest dall'altra parte però mi rendo conto che questo selezioni naturalmente tutta una serie di esseri umani che non ci stanno a ricevere e a subire quel tipo di civilizzazione è descritta nei modi in cui la descrivevi tu la capanna può essere un modo di abitare la frontiera secondo te? ma ovviamente la teoria della capanna è una teoria simbolica oggi lo era lievemente meno all'epoca di Torò nel senso che la società della sorveglianza della punizione dell'ipertecnologismo non esisteva ancora anche se lui l'aveva intuita tant'è vero che l'ultima vera capanna che aveva un tentativo di sottrazione e di rivoluzione è stata la capanna di Theodor Casischi il terrorista e matematico americano che poi è passato alla storia come una bomber in cui questo ultimo tentativo di sottrazione e aggressione si è consumato in modo molto più violento e molto meno ingomiabile di come è stata invece la capanna di Torò oggi il peso del mondo è un tutt'uno non esistono luoghi del mondo praticamente che siano fuori dalla maglia dell'ipercontrollo geopolitico del sistema di sorveglianza in cui siamo tant'è vero che tutte le teorie del capanna sono filtrate nei sistemi che sono stati inglobati dal capitalismo in modo ancora più violento l'arte contemporanea il design le architetture contemporanee e tutto quello scibile di cazzate dove ho lavorato anch'io in cui ovviamente però quello che succede è che tutti i pensieri rivoluzionari vengono archeologizzati e diventano espositivi per farci la mostrina il sito la roba al salone del mobile tutte contraddizioni che ovviamente un uomo come Toro non avrebbe sopportato Toro entra in una linea che appunto è quella dell'impennata industrializzante della prima seconda metà dell'ottocento dove ancora con un po' di ingiunità l'idea di poter fermare le macchine tra virgolette era quasi plausibile anche se ricordiamoci che poi trent'anni dopo esatti la nascita di Toro a Chicago nasceranno le Union Stockyard che è una roba a cui noi due siamo estremamente sensibili perché è anche il primo grande mattatoio industriale di smembramento degli animali e Toro è stato anche un antesignano di una forma blanda di vegetarianesimo per cui era molto legato anche a questo genere di tematiche oggi come Casischi invece aveva ben previsto nella società industriale il suo futuro io metto molto insieme questi due pensatori a tal punto che nella Wikipedia italiana Toro pur di non citarmi mi hanno scritto alcuni li hanno messi insieme questi due pensatori ma quello che succede è che Casischi è l'ultima bolla ma l'aveva detto se non riusciamo adesso a bloccare la grande rivoluzione informatica quella che viene chiamata la quarta rivoluzione industriale la rivoluzione dell'infosfera dell'industrializzazione delle informazioni eccetera la società industriale arriverà a un punto in cui la gaussiana è alta 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 finché non crollerà di botto con una iperguerra con una megapandemia con una distruzione dei server per ragioni ecologiche dopo poi ci sarà un collasso un'esplosione però l'idea oggi è ancora ancora Casischi scrive in un momento in cui si stavano inventando i personal computer cioè non c'era ancora questa idea della iperbolla oggi è impossibile che qualcuno si possa sottrarre a questa cosa nel senso che addirittura se no non saremmo qua a combattere con questa ipocrisia con gli Apple Watch cioè non si fa non si può fare cioè tu dici ma potresti farlo individualmente in realtà è una cazzata perché Toro ancora racconta di un terreno di proprietà di Emerson però nessuno andava davvero a controllare sì ci andava l'ufficiale Toro lo racconta spesso come dire l'ufficiale giudiziario di turno a rompere il cazzo per le tasse lui non le voleva pagare perché con quelle tasse si partecipava anche alla guerra nel Messico che in quel momento gli Stati Uniti volevano inglobare come uno degli stati della federazione lui non voleva che le sue tasse come se noi ci rifiutassimo di pagare le bollette per le accise che finanziano i retaggi della guerra in Etiopia del ventennio fascista però se io non pago la bolletta tra un po' mi staccano la luce l'anno prossimo mi portano in galera è poi un casino ed è un piccolo disastro dici vacci in galera ma non sono le galere in cui andava Toro non sono che sono delle prigioni simili a quelle a West in cui stava i tre giorni là dentro poi arrivava la zia poi li portavano fuori in cui se andavano i boschi non lo cagava nessuno in cui scomparire era possibile in cui la pace oggi ovunque andiamo anche nell'ultimo culo del mondo comunque il terreno è burocratizzato la vita e soprattutto e qui è che c'è anche un Toro che spesso infatti un certo pensiero di sinistra moralista fa reprimere perché Toro è stato anche uno dei grandi cultori della cultura americana dell'individualismo anche del saperce la fare che oggi viene venduto necessariamente come macismo perché ci siamo bevuti il cervello e siamo diventati dei cazzoni totali Toro diceva un fuoco lo devi sapere accendere più o meno quattro verdure le devi sapere piantare il martello lo devi sapere utilizzare per costruire qualche cosa se c'è da difendersi ti devi sapere difendere Toro passa sempre stupidamente come la disobbedienza civile non violenta ma in realtà non è un manco vero per il cazzo Toro dice io di fronte a uno stato violento cerco di adottare la tecnica della disobbedienza civile per infatti lui ospitava i migranti messicani nella sua capanna a un certo punto per cercare di farli di non farli acchiappare dalla polizia di frontiera dell'epoca eccetera però Toro lo dice più volte esplicitamente se uno ti viene a rompere i coglioni devi saper fare anche quello cioè devi anche avere a fare con quelle tematiche lì e infatti poi c'è anche tutto un pensiero di destra che riprende Toro e un pensiero di sinistra che invece dice sì però questo individualismo maschista ma in realtà quello che Toro ci sta dicendo è molto più più sottile oggi non lo capiamo più infatti oggi cosa si è fatto si è deindividualizzato totalmente le persone che non sono più in grado di fare un cazzo hanno un sacco di pretese etiche ci hanno iperfemministi iperecologisti ipermoralisti per quello però poi tu di fatto se gli dici prendi un trapano e pianta per favore un quadro ti dicono no è chiaro cioè tu non sai fare più niente e quindi hai sempre bisogno di cosa? Di più stato che ti aiuti Toro che era un antistatalista convinto no? D'altronde la disobbedienza civile è un libro che inizia così il miglior governo possibile è quello che non ci governa più ma fino a quando non saremo abbastanza pronti da avere quel genere di governo il miglior governo possibile è quello che ci governa meno questo è l'inizio di disobbedienza civile ma perché noi possiamo avere una cosa del genere devi saper governare da solo cioè quello che poi altri filosofi più avanti come Michel Foucault chiameranno il governo del sé che è una roba che non che davvero ci siamo completamente ci siamo completamente persi quindi figuriamoci se oggi uno è in grado di costruirsi una capanna da solo di farsi da solo l'orto oggi siamo così abbiamo bisogno di tutto no? di supermercati caccia non riusciamo a fare più nulla il libro di Toro è anche un grande libro sul ma tu ah di che cosa hai davvero bisogno ok ma B che cosa sai fare da solo cioè di che cosa sei davvero in grado ed è anche un cioè Toro era fottutamente contro lo Stato le forze di polizia non ci dobbiamo dimenticare questa cosa no? cioè quelle bellissime frasi contro quelli che lui chiamava i Marine guardatelo un Marine ombra dell'uomo dell'uomo che fu oggi simulacro cioè questa idea che tu debba sempre chiedere aiuto allo Stato devi chiedere aiuto alla polizia devi chiedere aiuto e queste cose quei filosofi non le potevano sopportare cioè i problemi di imparare a risolvere un altro questo è lo grande spirito dell'anarchia se per liberarti hai bisogno della stessa struttura che ti ingabbia la liberazione e la prigionia sono la stessa identica cosa certo e qui c'è un punto troppo importante che passa secondo me anche da una questione che oggi è più rilevante che mai che è l'assunzione di responsabilità su quello che è la tua esistenza cioè noi oggi tendiamo a dire in qualsiasi aspetto delle nostre vite se sono così è dipeso da qualcosa che mi è successo da piccolo se sono così non è colpa mia ma sono i 5-6 secoli che ci sono stati prima di di me se sono così c'è sempre un altro tipo di causa che non voglio dire non esista ma io tendo a dividere uno degli insegnamenti più grossi che ho ricevuto è quello di essere in grado di dividere il mondo in due grandi fazioni più che fazioni oddio in due grandi macro categorie mettiamola così ci sono le cose su cui non ho influenza e le cose su cui ho influenza all'interno del sistema delle cose su cui ho influenza praticamente il 99% degli elementi sono costituiti da me stesso per cui una delle lezioni che ci ho trovato io sia nel Walden che anche in disobbedienza civile è che grado di consapevolezza tu hai della responsabilità individuale che sta nelle tue mani sulla tua esistenza cioè ci sono quei meme che dicono il 100% della tua vita è tua responsabilità o detta in un italiano migliore scusatemi perché ho tentato di tradurla dall'inglese la tua vita è 100% tua responsabilità poi si può succedere tutto quello che vuoi però in realtà quello che conta è la tua risposta agli eventi che ti arrivano dall'esterno per cui secondo me qua arriviamo all'altro grande tema di Turo che è quello della disobbedienza civile che secondo me è anche un po' un tema che non tutti hanno letteralmente compreso normalmente quando le persone pensano a disobbedienza civile si immagina qualcuno seduto che viene trascinato da delle forze dell'ordine quindi magari ti chiederei visto che hai una profondità di linguaggio ben più profonda della mia scusate il gioco di parole che cosa vuol dire disobbedienza civile in Turo e oggi ma allora Turo la locuzione che lui utilizza lui aveva scritto un articoletto per un libro di estetica che non si chiamava la disobbedienza civile si chiamava in un altro modo poi più avanti verrà riscoperto tra l'altro leggenda vuole che verrà riscoperto da Gandhi mentre studiava in Inghilterra tira fuori questo libro prende queste pagine capisce che lì c'è la sigla della locuzione disobbedienza civile e poi comincerà a diventare quel piccolo libretto in centinaia di migliaia di edizioni commenti che tutti conosciamo ovviamente va inquadrato il contesto Turo vive negli Stati Uniti è un pacifista gli Stati Uniti sono un paese che si fonda sulla guerra sulla violenza e sulla morte nonostante una costituzione che invece si fonda sulla pace sulla bellezza sulla cultura cristiana eccetera quindi vede questa contraddizione e dice ma che roba è tra l'altro di quella federazione di stati iniziale nessuno poteva pensare che sarebbe diventato il paese più importante del mondo per così tanto tempo tant'è vero che loro hanno una costituzione che annulla il potere del Presidente degli Stati Uniti i Presidenti degli Stati Uniti di fatto non contano caccio perché uscivano da recarlo e quindi hanno fatto sì che di fatto conti sostanzialmente molto di più tutti i senatori che ci sono sotto perché era un paese che schifava l'autoritarismo ma immediatamente invece diventa autoritario quindi comincia ad aggredire degli altri stati a uccidere a violentare a prendere appunto a cercare di aggredire il Messico e però questa cosa la schifava e poi diventa sempre un paese meno come dire libertario e sempre più liberista per cui cominciano tutti questi controlli le tasse le finanze le tasse che servono per finanziare la guerra i controlli lo stato di polizia e però di fronte a tutto questo scenario che gli si rappresentava intorno e anche a una iper burocrazia Toro quando c'è una leggenda che dice che quando riceve la laurea ad Harvard peraltro con un punteggio di laurea molto basso riprende la tradizione del nonno che è stato il primo grande la prima grande protesta studentesca degli Stati Uniti d'America l'hanno fatta a Boston ad Harvard il nonno di Toro e dell'altra gente e quando prende la pergamena che all'epoca ad Harvard era fatta su una pelle di capra lui prende questa pergamena la tira e dice che ogni capra tenga stretta la sua pelle manda tutti a fanculo e anche lì cominciano i suoi problemi e comincerà una lunga carriera di disobbedienza cilide che come in realtà ci ricorda anche più timidamente un Marco Pannella nella storia dell'Italia contemporanea lungi da essere uno io sto seduto se volete mi metto così e mi venite a prendere è un'operazione estremamente attiva positiva rivelante talvolta addirittura violenta in un senso non brutto di questa parola che è fatta appunto di carcerazioni che è fatta di resistenza ai pubblici ufficiali che è fatta di ospitalità dei migranti messicani che è fatta di licenziamenti dalle scuole che è fatta di che è fatta di purtroppo anche non difendersi di fronte a molte accuse che però ha ricevuto negli anni delle cose più disparate più grandi cazzate è stata fatta addirittura di autopubblicazione di libri oggi tutti pubblicano wall di disobbedienza civile eccetera sono bestseller ma però ha dovuto pagare e siccome i libri andavano una merda ha dovuto lavorare come agrimenzore per emerson pensate che cosa terribile per pagare i debiti sui libri che aveva fatto pubblicare gli editori perché erano dei flop totali e la disobbedienza civile da toroi davanti diventa questa roba qui c'è un io non ci sto non c'è un sistema in cui questa mia io non io non ci sto viene rappresentato e quindi faccio quella che io nel mio piccolo ho definito anticipazione cioè anticipo nel qui e ora il mondo che vorrei ci fosse in futuro mostrando che è già possibile adesso e non preoccupandomi delle eventuali conseguenze conseguenze legali normative morali estetiche politiche eccetera che seguiranno questa mia posizione no? in fondo anche il veganesimo il vegetarianesimo sono delle forme di disobbedienza civile cioè anticipo adesso talvolta rimanendo a digiuno il mondo in cui vorrei vivere in futuro e vi faccio vedere che è già possibile questo l'hanno fatto prima che si chiamasse disobbedienza civile l'ha fatto Seneca quando si è dovuto ammazzare per le sue posizioni antischiaviste la disobbedienza civile in qualche modo è stata quella di Socrate che ha mangiato che ha dovuto bere la cicuta per non rinunciare alle sue idee con l'accusa di corruttore dei giovani che per inciso è la stessa che hanno dato a Pierpaolo Pasolini mischiata a quella di pedofilia col primo reato friulano e infatti come dire poi queste persone cioè la disobbedienza civile è un modo non per dire io non faccio violenza e ti dico non farlo più è chiaro che sarebbe un pensiero totalmente irrilevante perché il mondo è violento io dico e no in realtà il disobbediente di piazza tiene al men con le sue bustine della spesa di fronte al car armato quella è disobbedienza civile ma lì c'è il pericolo di morire c'è il pericolo dell'arresto c'è la possibilità di venire schiacciati è un gesto violento ovviamente fermare un car armato se uno riesce a capire il paradosso perché quello lì è lo Stato che è autorizzato a fare quella roba lì con i car armati e tu invece non lo sei quindi di fatto stai imponendo allo Stato attraverso reato perché questo è impedito a un car armato di andare avanti e attraverso un gesto di presunta violenza nei confronti della norma stai cercando di far sì che le cose virino da un'altra parte infatti il come dire principio metamorale della disobbedienza civile che va tenuto in fede è che la giustizia non sia sempre giusta anzi per quelli come Toro non lo è mai e quindi se è vero che ci sono delle norme che giustificano certe azioni certi trattamenti certi modi di fare di operare di punire di preservare via dicendo l'idea di Toro è che il giusto cioè la morale sia da un'altra parte e va contrapposta alla norma affinché o le normi si adeguino alla morale il miglior governo è quello che ci governa meno o addirittura la morale sopravvenga alla norma distruggendola e il miglior governo è quello che non ci governa affatto ovviamente troviamo sono appunto trascendentalisti americani e credono a Kant Kant nella critica della ragione pratica cioè la critica che risponde a che minchia posso fare che cosa c'è dato fare dice Kant risponde con si legge a te stesso cioè il principio dell'autonomismo morale che poi diventerà l'anarchia cioè la legge è qua non è fuori è questa la disobbedienza civile la legge di fuori è merda per definizione nel senso che cambia poi ci sono delle leggi giustissime perché le abbiamo ottenute ci sono delle leggi importanti che vanno rispettate ma non perché va rispettata la legge questo dice Toro ma perché sono cose che tu rispetteresti a prescindere cioè tu non prendi un bambino e lo tiri giù dalla finestra non perché c'è una norma che ti dice non tirare giù i bambini dalla finestra che invece a Sparta c'era il bambino non era buono lo tiravi giù ma perché tu hai una legge morale che ti dice rispetta l'esistenza di colui che è più debole di te ma non ha niente a che fare con io non lo faccio perché è reato perché sarebbe come dire che se non fosse reato spararci in faccia col fucile scenderemo in strada a farlo quindi c'è qualcosa di più è una soglia è più sottile spesso gli anarchici di cui Toro comunque è un antesignano vengono venduti come delle persone senza regole o contrarie alla giustizia in realtà gli anarchici sono per definizione poi ci sono gli anarchici che hanno sbagliato gli anarchici che hanno fatto le schifezze gli anarchici che non dovevano fare c'è un altro discorso ma l'anarchia come principio filosofico ti sta dicendo che la legge dello spirito è più grande della legge che c'è fuori di te quindi gli anarchici hanno molte più regole molte più leggi molte più strutture di qualcun altro questo è il punto la disobbedienza civile è no signori questa roba è sbagliata io me ne fotto non la faccio è piuttosto mi fico di fronte a un carro armato solo che talvolta le ed è qui che c'è il punto le cose prendono una misura paradossale per cui si pensa che la legge fuori ci stia davvero tutelando da chissà quali ma molto spesso come dice Toro in disobbedienza civile con un linguaggio più ottocentesco se una legge è davvero così importante tutti ci credono e tutti la difendono sei sicuro che è sbagliata qua arriviamo all'altro punto che direi che possiamo utilizzare come conclusione di questa chiacchierata e scusami se ritorno ancora una volta su quello che le persone possono scegliere di fare noi abbiamo pubblicato disobbedienza civile l'abbiamo pubblicato insieme al discorso sulla servitù volontaria di Etienne de la Boissy e l'abbiamo fatto credo che siamo stati i primi a metterlo per intero entrambi nello stesso volume però l'abbiamo fatto perché prima bisogna prendere coscienza del non voler essere soggiogati a qualcosa e poi si ragiona su come su come difendere la propria la propria volontà del non prendere parte a qualcosa tu ci vedi un link fra una connessione fra della Boissy e Thoreau non sto dicendo che Thoreau debba aver letto discorso sulla servitù volontaria eccetera ma c'è un filo rosso che gli unisce in qualche modo allora Thoreau non l'aveva letto quasi sicuro secondo me almeno non ne ha lasciato se non vado errato perché sui diari non li ho letti tutti quindi poi magari spunta il pizzino però la connessione è evidente ed è appunto la ragione per cui stanno tutti nel filo entrambi della bibliografia della letteratura anarchica in come dire in in entrambe i casi evidenti se tu mi stai creando un link concettuale diretto è che la prima vera appunto cosa da cui bisogna liberarsi è l'andare spontaneamente e con felicità verso la prigionia perché è lì il punto no e Thoreau lo dice esplicitamente quando dice la larga parte degli esseri umani vivono una vita di tranquilla disperazione dice lui cioè quindi cercare di andare a evitare di essere appunto volontariamente schiavi di qualcosa che ci sta togliendo quelli che non sono dei diritti che ci vengono dati ma sono dei diritti che noi abbiamo già e che al massimo ci vengono violati cioè noi non abbiamo qualcuno che molto gentilmente ci dà il diritto di parola ogni tanto se uno guarda un talk shot televisivo e fa questo errore si parla sempre delle democrazie come un posto straordinario perché qui ti danno il diritto di aggregarti il diritto di parlare il diritto di cacare il diritto di vivere il diritto di ma questi diritti qua te li ha dati la natura infatti si chiamano gius naturali non sono dei diritti che ti hanno dato le società al massimo ti danno il diritto di votare ma non il diritto di fare questa roba qui eppure noi utilizziamo serenamente il linguaggio siamo fortunati perché ci hanno dato il diritto di parola eccetera perché appunto si è scattata una servitù volontaria per cui tendiamo a confondere i primari con i secondari il diritto di avere un motorino con il diritto di avere due braccia e due gambe il link c'è ed è pieno zeppo di come dire libri che li mettono insieme o che li non come l'avete fatto voi intendo dire che hanno autori che hanno utilizzato in bibliografia queste cose per creare un link del genere sia dal lato anarchico sia dal lato anche più marxisti che comunque non avevano una passione per l'individualismo antistatalista di di Toro sono letture importanti in entrambi in entrambi i casi poi diciamo la verità è andata la possibilità che si capiscano comprendano queste cose cioè ognuno di noi può fare molto però è sempre meno possibile che ci siano persone che hanno voglia di farlo perché appunto è diventata talmente invadente la servitù volontaria grazie a tutti i meccanismi del del parastato della finanza e quindi poi dell'informatica e quindi poi dei social network delle bolle della perdita dell'individualità eccetera che di fatto si è venalmente compiuto quel sogno terribile di una società che non ha neanche bisogno di controllarti perché sei esso stesso il controllore e non come ci si può liberare da una cosa del genere se il primo a sparare è il tuo compagno di cella ti spara il tuo compagno di cella quando stai cercando di liberarti non sono Toro aveva ancora un filo di ottimismo non è un filosofo ottimista ma aveva un filo di ottimismo ma d'altronde la natura la solitudine portano ottimismo altri autori come Kasischi erano dei pessimisti ma credevano ancora nella possibilità di non sono per nulla come dire concorde con la sua metodologia ma avevano ancora una speranza di una qualche moto rivoluzionario io credo che abbiamo che stiamo che stiamo morendo solo questione di tempo cioè non c'è più nessuna possibilità di liberarci collettivamente individualmente forse ma paradossalmente soltanto se trovi il capitalismo cioè se sei ricco ti vuoi liberare e questa è la fitta di tutti i pensieri di funzionari non lo so io non non credo di avere la stessa idea più che altro perché penso abbastanza che ho una visione del tempo ciclica per cui hai dei momenti difficili che producono persone forti delle persone forti che producono momenti belli dei momenti belli che producono persone deboli e delle persone deboli che producono momenti difficili per cui secondo me siamo solo chiamati a vivere dei tempi che sono i più difficili che noi in questo momento storico ci possiamo immaginare poi probabilmente se andavi a prendere qualcuno che non lo so ha attuato un altro tipo di battaglia in precedenza chi diceva che avrebbe pagato per aver avuto internet o dei mezzi di comunicazione così rapidi giusto per fare un esempio molto stupido però per dire come magari cioè secondo me non è stupido per niente d'altronde internet stessa nasce come sogno rivoluzionario l'open source lo scambio di informazioni che doveva bypassare controlli dei sistemi informativi locali o degli stati il punto è che noi viviamo sono d'accordo con te cioè ci sarà magari una ciclicità per cui il punto è che il capitalismo geopoliticamente globalizzato assorbe tutte le istanze rivoluzionari in forma di ristoranti vegani ci ridà il femminismo nella forma di non una di meno ci ridà l'ecologia nella forma dei Fridays for Future che nonostante anche il sogno di occupai come Chomsky scriveva nel libro poi in realtà sono tutti diventati dei movimenti dispiace dirlo totalmente demenziali senza alcun tipo di efficacia e gestizialmente gestiti da cretini e cretini perché tanto è vero che qual è l'unico vero movimento che non viene mai assorbito pensiamo al caso cospito in Italia l'anarchia perché tutti i movimenti che invece che voler semplicemente riformare il sistema sbiadendolo di rosa di verde di giallo vogliono tirare giù boom non ti possono essere ridati a uso e consumo non è che tu puoi ridare piccole tanto è che i centri sociali i centri anarchici sono stati smantellati ma è pieno zeppo di centri non violenza case per le donne roba ecologista serie di Greenpeace perché quella roba lì serve a riformare il sistema in un altro modo ora oggettivamente come io vorrei spiegare a tutte queste centinaia di migliaia di minchioni che stiamo e che sono su internet che la parte che loro credono essere rivoluzionaria in realtà è il miglior apparato di protezione del sistema che si va a riformare con un po' green un po' giallo un po' blu un po' rosa e se un pensiero questo è l'ordine del discorso di Michel Foucault diventa così pressante tutte le società etiche del come dire gli apparati etici delle grandi società finanziarie Accenture eccetera hanno le stesse pretese etiche dei movimenti rivoluzionari riformisti cioè tu vai al Gay Pride e ti trovi il più grande cordone lo fa Accenture lo fa Allianz eccetera no? come è possibile che coincidano lo spirito del capitale e lo spirito della rivoluzione è evidente che c'è qualcosa che non funziona però oggi anche spiegare che l'acqua calda è calda è diventato un problema ci bisogna un sacco di formazione su concetti di base che ci siamo un po' persi a guardare stories e reel da 30 secondi sullo schermo del cellulare Leo io ti ringrazio per questa per questa chiacchierata probabilmente Walden o Walden detto più all'inglese è uno di quei volumi che può aiutare a prenderci questo senso delle cose perché ti rimette come giustamente facevi vedere facevi notare tu ti rimette coi piedi per terra e ti fa capire che diventa un po' difficile andare a tentare di sistemare il mondo se non è ancora sistemato camera tua e quindi ridà una giusta una giusta prospettiva io ringrazio tutte le persone che sono state con noi vi invito a darci una mano a sabotare gli algoritmi mettendo un like commentando e magari condividendo questo video con qualcuno che potrebbe essere interessato ringrazio Leonardo Caffo per la prefazione splendida che ha scritto al Walden e per questa chiacchierata chi lo sa magari ci rivediamo potrebbe essere interessante una serie sull'anarchismo e sui testi dell'anarchismo potrebbe essere che ci rivediamo e grazie a tutti e alla prossima evviva ciao ciao Grazie a tutti